e bello a tutti ragazzi benvenuti su questo nuovissimo video io sono Loro Stanzano e oggi qua devo dirvi una buonissima notizia che ho fatto un sacco mila di video e dovete ricordare di mettere sempre like, commenti e visualizioni solo queste tre cose comunque la buona notizia ve lo dico che abbiamo superato 300 iscritti grandissima ragazzi grazie di cuore per aver superato tutti questi iscritti vi voglio un sacco di bene a tutti anche quello di Instagram scusate per tutto Instagram e tutti gli altri e anche su gruppi di Whatsapp e tutti quindi ragazzi mi raccomando guardate sempre i miei video quando li pubblico tutti quanti a mogare quelli vecchi vi ho mandato sempre su Presting o su Community quel che ho fatto su Community sono quel che faccio le foto io su Presting quel che metto su video pubblicati di solito metto lì a salvarli se per caso non riuscite a trovare i miei video come vi ho detto sempre dovete andare su Cerca scrivete lo stanzano o se no se non uscite andate su Presting e ci sono tutti i miei video e quello che ho più pubblicati di tutti gli anni e mesi e quindi ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate i miei commenti e iscritti e ci vediamo nel prossimo video di lo stanzano vi ringrazio tantissimo per aver superato 300 iscritti mi voglio un sacco di bene ragazzi e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi